Con il Consiglio Comunale di martedì 13 giugno la crisi al Comune di Teramo si risolverà o in un verso o in un altro. Il Sindaco Brucchi, estenuato da trattative infruttuose con i dissidenti della sua stessa maggioranza, ha deciso di risolvere il dilemma se continuare ad amministrare o tornare tutti a casa, chiedendo la fiducia del Consiglio su un nuovo esecutivo e su alcuni punti programmatici che riguardano il masterplan. In queste ore si fanno mille congetture ma la partita si giocherà pubblicamente sotto gli occhi attoniti di una città che non si riconosce in questi giochi di poltrone. Sindaco fuori dai denti, ma domani che cosa succederà? Lo vedremo domani in Consiglio Comunale, io oggi non sono in grado di dire quello che vorranno fare i consiglieri, io credo che però domani il Consiglio Comunale è la sede istituzionale dove parlare e risolvere queste situazioni. Non lo si può fare sui giornali, non lo si può fare nei bar, lo si deve fare nella sede giusta. E quindi io domani arriverò con la mia proposta. Una proposta che prevede una giunta? Una proposta generale, guarda io credo che sia riduttivo. Se qui continuiamo a parlare di giunta, continuiamo a parlare di poltrone, io credo che i cittadini ancora meno ci comprendono già, ci comprendono poco. E se visto anche dall'affluenza, che comunque pure si trattava di amministrative, è stata un'affluenza bassa, normalmente nelle emissarie si raggiungono percentuali molto più alte. Perché? Perché la gente si sente lontana dalla politica, soprattutto quando si affronta una situazione come quella di Teramo, che è una situazione difficile, con un terremoto alle spalle, con tutta una serie di problemi da affrontare, la riduciamo a un semplice dato numerico, non può essere. Io andrò con una proposta complessiva e spero che la maggioranza, il Consiglio Comunale, la ritenga per il bene di Teramo e per il futuro di Teramo una proposta accettabile, altrimenti poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Il Consiglio Comunale di martedì 13 giugno, essendo in seconda convocazione, fissa una maggioranza esigua di 12 voti per approvare i provvedimenti. Con grande probabilità dunque i punti proposti dal Sindaco passeranno, se così fosse, resterebbe l'inopportunità a proseguire il mandato di primo cittadino.